Settimo e ultimo appuntamento per ora con la rubrica La Massoneria risponde, ringraziamo gli utenti a cui diamo il buongiorno per essere qui anche oggi. Settimo e ultimo appuntamento perché andiamo incontro alla pausa estiva, almeno per quanto riguarda questa rubrica. Riprenderemo a settembre, poiché tante sono le domande che arrivano dalla Federazione Italiana e tante sono quelle pervenute da quando abbiamo cominciato a pubblicare questi pseudo-video. Quindi speriamo di riprendere dopo l'estate, chiaramente ci saranno altri contenuti che pubblicheremo e vi invito a seguire, come sempre, il canale. Come ultima puntata però noi volevamo che ci fosse dentro una domanda sulla simbologia, sul simbolo e per questa ragione tra le numerose davvero domande che sono pervenute e di cui vi ringraziamo abbiamo scelto la domanda di Federico che scrive da Gavoi, quindi siamo al cuore della Sardegna e Federico ci domanda ho sentito spesso parlare di linguaggio dei simboli, che significato ha per il massone il simbolo? Lo facciamo con Manuela all'oriente di Oristano e con Olindo all'oriente di Cagliari così che Federico si senta accullato della Sardegna. Manuela e Olindo, a voi la parola. Ciao, buongiorno a tutti, grazie carissimo Federico. Il simbolo esiste dalla notte dei tempi, è nato con l'uomo e per l'uomo. Basta che pensiamo ai popoli primitivi che si dipingevano il corpo con vari colori, che appunto per i vari significati che avevano, agli egizi con il loro alfabeto ricco di simboli e così via, fino a noi moderni che i simboli li usiamo nel nostro quotidiano, perché il simbolo parla, parla, ha un significato intuitivo, perché porta con sé il significato che rappresenta. La sua comprensione diventa quindi naturale, quindi lo conosci esteriormente e poi pian piano devi cercare di risvegliarlo interiormente, risvegliare i simboli latenti che sono in noi, perché sono in noi questi simboli. E in questa strada noi li ritroviamo, ci chiamano, ci fanno aprire gli occhi, ci fanno aprire i sensi, il cuore. È una via bella, è una via simbolica, è una via ricca. Olli, olindo. Il simbolo che, sono d'accordo, esiste dalla notte dei tempi, è solitamente inteso come un oggetto al quale noi diamo una certa interpretazione, ma non è solo sempre un oggetto. Il simbolo può essere un'immagine, può essere una parola, può essere un profumo, può essere una musica. Molte volte sentiamo una musica e ci riporta in un periodo, riviviamo sentimenti, anzi musiche o parole o immagini, non solo oggetti, molte volte ci suscitano la commozione. Quindi i simboli sono quelle cose a cui noi diamo un'importanza, ci aiutano nel percorso spirituale di tutti i giorni. In questi ultimi giorni abbiamo vissuto le frecce tricolori che hanno girato tutti i cieli d'Italia. Chissà quanti hanno suscitato emozioni. Ecco, quelle erano un simbolo. Un simbolo che non è nato oggi, è un simbolo che ci portiamo appresso da quando abbiamo iniziato ad amare, in questo caso, la patria. La parola patria è un altro simbolo. E per fare un esempio di come una parola riesca a conglobare i sentimenti, se io voglio mettere insieme il padre, il figlio, la nonna, la madre, uso una parola, famiglia. Questa parola è un grande simbolo che suscita tutto quello che c'è dietro poi. Quindi di persone, di sentimenti, di amore, di speranze, di aspettative. Questo è il simbolo. Sulla base dei vostri interventi possiamo dire questo. Il simbolo è ciò che tiene insieme. Etimologicamente questo vuol dire, a difenza di diavolo, che vuol dire esattamente il contrario, ciò che separa. Questa è una cosa che ci teniamo un po' a ribadirla con i nostri messaggi. I massoni considerano i simboli chiaramente molto importanti in quanto strumenti di lavoro, strumenti di conoscenza per lo svelamento di quei significati che tengono insieme. Però il fine non è stare lì, raccontarcela, vivere la ritualità, come stare di fronte ai simboli così, in maniera inerte, no? Ma appunto è raggiungere quei significati che racchiude. In un certo senso sembra domandarci anche questo, Federico. Perché i simboli? Cioè, perché non veicolare quei significati in maniera diretta, aperta? Perché passare per questa attività dello svelamento? Solo il conoscerlo non è sufficiente. In questo caso sarebbe solo cultura. Conosco un'infinità di simboli e quindi una grande cultura, so che cosa significano. Però, poiché desidero fare e noi facciamo un percorso spirituale, cioè una certa crescita interiore di fratellanza, di uguaglianza e di libertà, allora ho necessità di interiorizzare il simbolo. Il simbolo, il significato del simbolo, io cerco di interiorizzarlo, non solo di conoscere, perché se no mi sarebbe sufficiente tenerlo appeso in casa e ogni volta che lo vedo, quella è solo cultura. Quando diciamo il simbolo ci parla è perché è sufficiente che la nostra anima, il nostro pensiero, il nostro cuore ce lo riporti alla mente, che sentiamo immediatamente l'insegnamento e la comunicazione che quel simbolo ci vuole dare e ci può dare. Nel caso nostro, dopo grande disquisire, conoscenza, studi, approfondimento che noi chiamiamo percorso massonico, questi simboli li interiorizziamo, li abbiamo dentro. Allora è sufficiente sentirla o pensare alla parola fratellanza perché non ci freniamo più a discriminazioni tra bianchi, neri, tra alti, bassi. Il massone dopo che ha interiorizzato la parola fratellanza, dopo che ha interiorizzato tutta una serie di simboli, di uguaglianza, e allora è veramente fratello, è veramente… si sente vicino al prossimo, ecco, non solamente come si crede esclusivamente ai componenti della massoneria, no, ma a tutti, i componenti dell'umanità. Sono d'accordo con te, Olindolo, ti viene automatico, tu hai parlato di fratellanza, io posso parlarti di uguaglianza. Come ben sappiamo non esiste in natura ed è una sfida che la massoneria ha posto al genere umano. E noi qui, nella nostra famiglia grande, in tutto il mondo, lottiamo, lavoriamo e portiamo avanti questo principio importantissimo perché siamo tutti, tutti uguali. E questo, prima o poi, c'è la speranza che tutta l'umanità riesca a capirlo. Sono i nostri principi di rispetto, di tolleranza, di libertà, di libertà di pensiero, perché se tu sei libero nel tuo pensiero e non segui dei dogmi, non hai dei paraocchi e sei libero nel tuo pensiero, vedrai chiunque ti circonda, come un fratello, come un principio di uguaglianza, di equità, di giustizia, se vuoi. Certo sorprende, Emanuela, sulla base di quello che dici, constatare come la massoneria sia potenzialmente di una modernità incredibile. Però il linguaggio simbolico e quello rituale sono più antichi persino della parola. La nella scuola viene insegnato che la trasmissione dei saperi è avvenuta con la parola, appunto, prima orale e poi scritta. Che la storia stessa ha avuto inizio con l'invenzione della scrittura. Però in realtà la dimensione simbolica e rituale sono di gran lunga antecedenti. E in un certo senso possiamo dire che sono il linguaggio della coscienza profonda e collettiva. Certamente tra le prime cose l'uomo ha conosciuto i simboli e ha conosciuto una ritualità. La vita stessa è una ritualità. Io prima ho parlato della famiglia. Chi viene al mondo vede il padre, la madre, viene allattato, c'è la capanna, c'erano i parenti, poi c'erano i giochi. E chiaramente vedere certi simboli del momento riportava all'anima del ragazzino lo spirito dei giochi. Non c'era bisogno neanche di insegnarglielo, no? E poi ci sarà stata la caccia e poi c'è stata la venerazione del sole. E il sole che simbolo era? Quello era uno dei primi simboli quando uscivi a vedere. E nessuno ti deve spiegare il sole, cos'è, cosa non è, cosa... Lo senti, lo senti immediatamente. Se quando ognuno di noi si siede a vedere un'alba, altra ritualità, il sole che sorge, che poi fa le ombre, poi va in perpendicolare allo zenith e poi va al tram, anche quella è una grande ritualità dell'universo, del mondo, eccetera. Quando ci mettiamo a guardare il sole all'alba che sorge, sentiamo qualcosa dentro. Se sentiamo qualcosa e ci sta trasmettendo qualcosa, quel qualcosa è la spiritualità. Noi siamo un corpo di carne ed ossa che contiene dentro un'anima e uno spirito. Questi simboli, quando ci parlano, stanno nutrendo il nostro spirito. Corpo, anima e spirito che noi massoni, in un certo senso né più e né meno di chiunque altri, proviamo a mettere in armonia tra loro, ma lo facciamo con un metodo peculiare, tradizionale, esperienziale e iniziatico. Olindo, Manuela, io vi ringrazio di essere intervenuti, come sempre, in una chiacchierata non esaustiva, anzi tutt'altro che esaustiva. Siamo felici perché lo facciamo con semplicità, lo facciamo con spontaneità soprattutto, ed è un primo approccio per chi vuole interessarsi di massoneria, capire che è fatta da uomini e donne liberi, di buona volontà, che non sono più strani, diciamo così, di quanto non siano un po' tutti gli esseri umani, ma anche come tutti gli esseri umani, pieni di quello spirito che, tu Olindo dicevi, intendiamo elevare. Ci vediamo con voi utenti probabilmente da settembre con questa stessa rubrica. Vi invito ancora una volta a seguire il canale perché nel frattempo pubblicheremo, anzi proprio nei prossimi giorni pubblicheremo diversi altri video con diversi contenuti. La Federazione Italiana dell'Ordine Massonico Misto Internazionale delle Drua Omen vi dà appuntamento su tutti i suoi social network, Facebook, Twitter, il nostro nuovo sito internet che lo ricordiamo è www.drua-omen.it. Vi auguriamo, come sempre, una settimana serena all'insegna della conoscenza e della crescita interiore. Grazie.